Il Conservatorio Rossini di Pesaro apre le porte alla città, vieni a scoprire l'offerta formativa. Gli studenti del Rossini si esibiranno per l'intera giornata di sabato 18 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 a Pesaro presso il Palazzo Livieri, la Chiesa della Maddalena, la Sala Bei e Piazza Lazzarini. Ti aspettiamo!